Ciao a tutti e a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati e ben ritrovati in questo nuovissimo video ASMR, ho un pochino di raffreddore quindi scusate appunto la voce che non sarà chiaramente come al solito, allora oggi faccio un video che piace fare a me, punto, quindi oggi sono un po' egoista, sono senza luce oggi, c'è la luce che uso per fare i video, è questa, ma lo voglio fare al buio, il video di oggi, perché mi va, cioè non c'è un altro motivo, mi va di fare il video di oggi al buio e non essere illuminata dato che non sono neanche in forma, ho detto meno vedo la mia faccia, meglio è, che poi tra l'altro raga adoro, scusatemi tra l'altro struccata con i capelli legati eccetera, tra l'altro raga adoro il fatto che su youtube puoi dire un sacco di cazzate, cioè io tipo posso dire, sono vestita così con la tuta, poi sotto c'ho tipo sette coperte del pigiama, posso dire tipo, sono le sette di mattina in realtà, è luna di notte adesso, quindi se mi fa troppo spiegare perché voi vedete solo tipo, ma non sapete poi cosa c'è dietro, da a parte gli scherzi, io sono sempre super sincera con voi, però tipo a volte, vi dico tipo combo il vestito così, in realtà ce l'ho tipo solamente, cioè sotto parali sono semplicissimo pantalone eccetera, prima anche iniziata delle mie parole perché c'era stata una ragazza tempo fa che mi aveva un po' rotto le palle, se questo video non vi piace, a parte che secondo me è strabello, ma nel caso il mio canale ha quasi 500 video, quindi potete guardare benissimo quindi chiudete questo video e andate via senza insultare o tanto altro, comunque questo è un video dove vi saluto uno a uno, vi ricordo che vi posso salutare solamente se avete l'account pubblico, cioè non venite a dire tipo non mi ha salutato perché se avete l'account privato non me lo fa vedere, e io ho già fatto due video così, questo è il terzo video, però sinceramente mi andava, e ho visto che l'ultimo video risale a gennaio, 25 gennaio di quest'anno quindi io per, dato che tante persone le ho già salutate, per essere anche onesta farei cioè qui youtube vi spiego mi da ultimi 7 giorni, ultimi 28 giorni, ultimi 90 giorni, ultimi 365 giorni intera durata, dato che l'ultimo video che ho fatto risale a metà gennaio, io farei l'ultimo anno, non da quando ho aperto il canale, perché sono passati gennaio, marzo, aprile, maggio, giuno, luglio, costo, settembre, ottobre, novembre, dicembre, sì, sono passati quasi, cioè quasi un anno, quasi, e quindi io saluterei appunto le persone che si sono iscritte al mio canale da gennaio in poi, però anche se non siete, non verrete salutati o vi siete iscritti prima, intanto, tanto di cappello e grazie, parte 1 e parte 2, potete comunque rilassarvi, perché comunque non sarà soltanto saluti, ma vi darò anche tipo delle, cioè delle informazioni durante il corso di questo video, vi voglio aggiornare un po', raccontare un po' di cose, fare un po' tante cose, quindi, anche perché è il primo video natalizio, questo video lo vedrete il primo dicembre 2022, quindi, cioè, buon dicembre a tutti, buon inizio mese a tutti, nuove opportunità, ma di questo poi ne parliamo nel corso, quindi intanto iniziamo a salutare tutti, adesso aspettate perché devo partire da tipo febbraio, gennaio, fino ad arrivare adesso che, vabbè, fine novembre, se siete stati salutati, scrivetelo nei commenti, se non siete stati salutati, ma volete essere salutati, però, scrivetelo lo stesso nei commenti, perché io, quelli che mi scrivono, Anna, grazie per il saluto, per esempio, vi ringrazio anche io ulteriormente per aver visto questo video, se invece non siete stati salutati e volete essere salutati, io mi salvo col commento e nel prossimo video vi saluto, quindi ci guadagnate in ogni caso, e ora devo tornare indietro alla vita, vabbè, comunque sappiate che quando ti può vedete sugli altri canali di youtubers, tipo anche grandi, che mi dicono, raga, non mentite nei commenti, perché se voi mi seguite da un totto, no, lo sappiamo, oppure no, eccetera, 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 vi faccio un esempio, ok, faccio vedere questi allora, vedete tipo la prima PEA ASMR è iscritta nel mio canale dal 3 ottobre 2022 a 11.000 iscritti, complimenti, complimenti PEA, quindi se vi dicono, non mentiteci o cosa, perché noi abbiamo, cioè, youtube è favoloso, abbiamo youtube studio capa di creator, e ci dà una qualità, una quantità di informazioni, di cose, che è qualcosa di veramente straordinario, quindi per quello non ve lo diciamo, diciamo per in cattiverio, e tipo PEA è iscritta dal 3 ottobre, per farvi un esempio, About B è iscritta, o iscritta non lo so, dal 20 agosto, Melania è iscritta dal 9 novembre, quindi, cioè, sappiamo di ciò, comunque inizio a salutarvi, ciao PEA ASMR, ciao POLA, Gravist Girl, ciao, 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 l'invisibile e malinconico ASMR, mamma mia dal 2021, ciao, About B, ciao, 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 Melania Costantino, ciao, Annina Vlog, ti chiami con me, ciao, Piergi, con la foto di una Winx, ciao, e poi avete pure voi un botto di iscritti, cioè, raga, Elisa N, ciao, ciao, già da Sofì, ciao, anche lei è iscritta dal 2021, cioè, dicembre 2021, mi dà questo, perché chiaramente non siamo ancora arrivati a fine dicembre, quindi dato che gli ho dato gli ultimi mesi, gli ultimi 365 giorni, invece che partirei da gennaio, partirei da dicembre, Prida ASMR, ciao, ciao, Breck Away FRP, ciao, Ginevra Art & Co., ciao, tu invece sei nuovissima, sei arrivata due settimane fa, Ginevra, ASMR ASAP, ciao, Melodi Hunter 83, ciao, fammi sapere se sei nato nel 1983, Biscuit Friends & BFF, ciao, Just Leao, ciao, Noemi Emi, ciao, Georgia ASMR, abbiamo fatto anche un video insieme comunque, quando adesso è sul suo canale, si chiama tutto in piccolo, Georgia in grande ASMR, ha quasi 300, quasi 400 iscritti, quindi passate anche sul suo canale, Paolina Gris, 1592, ciao, dai che oggi vi devo raccontare un sacco di cose, Eri Pelle, ciao, ciao, Marta Shock, grazie per i tuoi commenti, MRKMAFA, mamma mia, tu da marzo, wow, grazie anche tu che mi lasciai sempre un sacco di commenti, Alianna Gatto, ecco questi tipo sono silenziosi, oh, commentano poco, Jester, ciao, poi Chiara Fansub, ciao, Lorenzo, Chiara Antti, ciao, Lorenzo, Monkey Di Fabio, ciao, Clep, ciao, Veri Hermi, ciao, Noi Due, fantastici, sono un uomo e una donna, quello ha fatto profilo, favolosi, ciao, Roberto Puerari, ciao, Georgina Sweet ASMR, ciao, Mirko Gerli, ciao Mirko, Vagans, ciao, Annina ASMR, wow, ciao, ma sa che Annina sono io, non so se lo hai fatto perché, tipo, vabbè, non importa, fare quel che vuoi, è che per dire che, tipo, cioè, io mi sento Annina così, perché tutti mi chiamano così, ma vabbè, M-R-Away Zoom 6901 Able, ciao, C-J di Jeans D, con una foto bianca, ciao, Mido Official, ciao, Viviana Romano, è iscritta dal 2021, mamma mia, pazzeschi siete, ciao, Oleg Temaz, ciao, Giorgio Iacono, ciao, Giorgio, anche tu, dal 22 dicembre 2021, ammazza che roba, Mick ASMR, ciao, 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 Andrea, ciao, Beatrice Imperioli, Ciao, Petrice, Lorenzo Marchetta, anche tu, dal 2021, buonatissima, ciao, user, ciao, ciao, Rick Fra, Italy, anche tu, dal 2021, ciao, poi, Chiara Tadini, ciao, Chiara, Imagine Wonderland, spero che tu stia bene, ciao, alcuni a cui faccio un commentino, è perché magari ci ho creato un rapporto, un qualcosa, non lo so, in quanto, tipo, sono delle persone che magari commentano tanto e tutto quello che ci va dietro, bla, 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 cioè, omo, mi ricordo tanto il nickname, o magari mi scrivono su Instagram, mi seguono su Instagram, quindi io quando accetto la richiesta su Instagram, c'è il link, se volete seguirmi in descrizione, vedo le vostre facce ed è anche strabello, perché, tipo, Alessio, Alessio lo ho imparato, cioè, Alessio mi scrive sempre, cioè, ci siamo anche sul gruppo Telegram, quindi con alcuni di voi, c'è un sacco di, alcuni di voi anche il più ruolo dei telefoni, quindi, comunque, e se volete unirvi al nostro gruppo Telegram, ci tengo un sacco, guardate qua, una pannocchia, cioè, vabbè, venite giù, in descrizione c'è il link, allora, super, pip, ciao, funny smile, mokro, anime, no, amine, ciao, 2L Real, grazie per i tuoi commenti, it's me, Mary, fra Laure, 05 Campanaro, Mademmano, Ariana, Tor Channel, ciao ragazzi, vi faccio un po' gruppetti, così stiamo più veologini, poi ci avete dei nickname, tutti, uno più difficile dell'altro, ciao ragazzi, questi sono tutti di agosto, di agosto di quest'anno, quindi un paio di mesi frast92, zepp89, dandcrow, volub, tas, morsa, Matteo, Sansoni, tu sei dal 2021, pure dandcrow, grazie, e Ilaria, Michalis, ciao, comunque, ieri, in teoria, riuscite a fare in tempo, quando vedrete questo video, penso di sì, se andate su Instagram, però dovete farlo, tipo appena vedete questo video, se sono intorno sera, perché sennò poi le storie si cancellano, lo fattano entro la mezzanotte di oggi, vi ho messo dei sondaggi in carini su Instagram, dov'è? Mariana, lì là, quando vuoi così, perché tipo dorme, fa un sogno, vabbè, quindi se potete vi aspetto su Instagram, c'è il link giù in descrizione, che ho fatto tutti dei sondaggi in carini, Peppe Panariello, abusivo, due bross, molto rumore per blu, grazie anche, molto rumore per blu, da 2021, Francesca Love, di LV, Elisa, Colantoni, di Crazy, più di shampoo, io non so l'inglese, raga, non lo so, grazie Crazy per i tuoi commenti, un bacione a tutti voi, sì, forse così sono un po' più veloce, ciao, 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 che poi credo che la parola ciao la conosciate anche, Luca Dalbello, dal 2021, grazie, Lolling, Villina, GX, Marco, 262, 222, Davide, Davide, Celardi, Emma, sui, no, sere vere, un bacione, che poi raga, sono una sera felice, perché tipo questo weekend, c'ho il venerdì una pizzata con tutte le mamme, le ragazze di danza, di reggaeton, di zumba, il sabato c'ho un diciottesimo di una mia amica, ciao Sara, seguendo questo video, e la domenica, c'è amici, vediamo se esce una ragazza, che si chiama Sara, anche lei però sono due sale diverse, quindi vedremo, salve, grande, ciao, rimesclo, Jessica, Tashish, 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 S-H, Hermesclo, il Giuselite, Vita9799, e Martina Zito, grazie Martina dall'anno scorso, un bacione a tutti voi, poi fatemi sapere cosa farete, che voi in questo weekend, comunque o divido questo video tipo in due parti, oppure faccio durare tutto quello che durerà, perché secondo me staremo qui un tanto tempo, allora, Massimiliano Ciccolini, grazie, dal 2021, Lorenzo Falcone, Scrik123909893, Blink98, Amnesia Reds, India Bernardo, Geppa69, ciao ragazzi, Nails, Verona, Lino, Italiano, Anto Amala, ciao Anto Amala, grazie per i commenti, ciao a tutti voi, che andiamo avanti? Allora, Luca, Buccella, grazie, dal 2021, love you, Bellista, Giovanni Raimondi, presto andrò a rifare le unghie, Giovanni, Yas, Rai, Luca, Buccella, Matilde, Rosini, Francesca, Caracusi, ciao ragazzi, Giovanna di Rosa, grazie Giovanna dal 2021, facciamo così, fatemi un regalo di Natale, oggi, se c'è qualche iscritto silenzioso, cioè quelli che magari guardano i video anche da mesi ma non hanno mai fatto un commento, oggi prendete coraggio e scrivete nei commenti, hashtag sono coraggioso, così nessuno vi dirà nulla del commento, però io so che siete quelli silenziosi, lo fate in questo video, non sarebbe che lo farete mai più, però fatelo, perché così vi vedo anche voi, perché alcuni non li conosco proprio perché sono così, però oggi ci possiamo dare, non lo so, tipo un saluto insieme, scriveteci nei commenti, hashtag sono coraggioso e io so che siete le persone che magari non si perdono un video, però non commentano mai, senza motivo, semplicemente gli basta guardare il video, basta, però frazzi si viva, fatelo perché sarebbe carino, Giovanna ti ho già ringraziato? Sì, allora Beabadi, mamma mia i numeri, vabbè, grazie, ciao, Gianluca Gallus, Giuseppe Porcella, Marco Guido, Ibrahimov8 e Martina Sava, ciao Martina e ciao a tutti Afrodite90, Side Granata, Giorgia, I'm Sofia, thanks by, che novi, Diana Light, Elie Cassidi, grazie Elie dall'anno scorso e Nuvola di Zucchero, ciao a tutti, magari adesso posso dire benvenuti dato che comunque io gli ultimi li avevo salutati, solo quelli del 2021, ciao Nico F, tu ci sei dal 30 dicembre 2021, giuro che vengo a spoleto Nico, perché, allora, alcuni di voi mi scrivono con l'email, ciottiamo lì, altri scrivono sul gruppo Telegram, venite, c'è il link in bio, altri mi scrivono sui talenti Instagram, venite, c'è il link in bio, quindi si crea proprio un rapporto, cioè, oppure nei commenti, capito? Nuvola di Zucchero, Gabriele Levito, Alessia Fiengo10, Lotto V, con il 3, Lorenzo Carbone e Anna Miu Musi, grazie, ciao ragazzi, benvenuti, io dico grazie tipo anche per l'iscrizione, che comunque non sottovaluto mai, Chris Agalan, tu ci sei dall'anno scorso, grazie mille, abbiamo passato un po', Gabriele Umbri, Yulabi, 1, 2, 3, 4, 1, Rosa Manco, Surapis, David Pozzegar, Andrea Di Crescenzo, ciao, ciao a tutti, benvenuti, ammi anche i nomi, allora, moon and moon, ciao grazie, da 2021, Ergeni Corazzino, Giulio Luccherini, Jessica Chero-Layan, Cristina Mazzotta, Noemi Beacaste, ciao a tutti, benvenuti, tra l'altro, so che non lo faranno mai, però, io provo a chiederlo lo stesso, se per caso ci conosciamo, se per caso, non lo so, siamo stati compagni di classe, siamo amici, sei della mia zona, mi conosci, hai conosciuto, mi conosci dal vivo, ovviamente parlo di persone nel Veneto, non parlo di persone fuori, però, se, tipo, sai chi sono, eccetera, dillo che guarda i miei video, magari vienimelo a scrivere, magari scrivermelo su Whatsapp, su Instagram, per mail, o su dove ti pare, però, fatemelo sapere, ovviamente questo non è rivolto a nessuno di voi, gruppo generale, diciamo, a cui parlo nei video, ma ci sono tante persone che io so che vedono i miei video che mi conoscono, però non me lo dicono, quindi ditemelo, perché mi farebbe sopra piacere, aspetto un vostro, Anna, guarda che io guardo i tuoi video, ma non te lo dico spesso, te lo dico, tipo, quasi mai, Stefano Fava, dal 2021, grazie Stefano, Sabrina e Basta, Paola e Massimo, Niggers, JR, Ilaria, Puglisi, cuore italiano, Esas, Frecciarossa, grazie per i commenti, Lilli, bellina, grazie anche a te, ciao a tutti e benvenuti, non finiremo mai, ah no dai, forse, come si è verificato un errore, perché, aspettate per un attimo, tornare indietro, ne devo fare tipo 2000, proprio, proprio, little, little rainbow, ciao tesoro, Naim, Andrea Minetto, Carlo Di Marzio, Fanet, Rocop, Miri, Marta, 88, Nunzia Ferraioli, Marilyn, 98, Jack Ita, 92, Giuseppe Herri, ciao Giuseppe, Cristian, Aulino, Marco Boscolo, Caporale, Francesca Marica, tuo figlio, Milorenne, che si chiama tuo figlio, Milorenne, mi segui dal 3 agosto, grazie, Luca Borromini, Ultimate, Ginger, Mary, Crystal, grazie, ciao Crystal, Mark, Linda, Gia, Dias, Min, Jonathan, G, Nolfi, Simone Vittiello, Maria Chiara, Ribauto, Eulopat, Chiars, Linda, Antosiano, Simone Bernardi, quanti Bernardi, Patrick Weish, Alessia Graufalo, Luisa Spennati, NGN1919, Fabrizio Leggeri, Allison Fantuzzi, Marta D'Alfreddo, Gimbo00069, Andrea Aldi, Siete, Deanna Guidetti, Mattia Montrucchi, Massimiliano Vignudelli, Chiara Good Vibes, ciao tesoro, Alessia Napoletano, Alessandra, Iade Luca, Iota Gonzalo, Serena Montori, Stefano Del Manzo, Chiara Maria Rubino, ciao, Paola Lillo e Paolo Olivadese, Ciao a tutti i ragazzi, che tra l'altro, cioè, benvenuti ovviamente, che tra l'altro, non c'è assolutamente, ok, una differenza tra quelli a cui tipo magari dico una parola in più e gli altri a cui dico soltanto ciao, solo che siete tanti, adesso mi rendo conto che siete tanti e faccio questo video anche per rendermi conto che tipo non sono sola, uno e due, magari mettiamo una luce adesso, e due, ci siete, solo che col fatto che non sempre commentate, io a volte mi sento sola, però mi devo rendere conto che effettivamente ci siete e siete anche abbastanza, devo dire, sì, vedete, non ho proprio un bel aspetto, sono un po' palaticcio, devo dire, Gillette Series, Gaia Troiani, Matteo, SNR, Marco, San Pieri, Stella Lorusso, Giuseppe Greco, Ale Capo, ciao Ale, Matteo, but not mind, Chris Dall, Dick, I am Gabrielet, Martin Apple, ciao tesoro, Roberto Cavalli, Margherita Dionisio, Daniele Iacono, Matilde, buon figlio, ciao, Mauro Leggiani, perché so che c'è una buon figlio qui della mia zona, però magari non sei tu qui, a precisere, ciao, Mauro Leggiani, Ale, Duturi, non so, Antonio Navatta, ciao Antonio, Rachele Pettini, Giucciola, ciao, Luis BG, Cristina Setta, Nicola Saponara, Teo, Fuffi Sanchica, Miriam Tranquelli, Simone Circosta, CNL, YDA, Erika Bondioli, Claudia Vasile, Perfect Nudi, Alison Catozzi, Giorgina, Graziano Tarozzi, Linda Matteini, Caro 995, Salvatore Romano, Laura Muia, Wonderwall, Angela Laura, Mascare, Sofia Dell'Amico, Orlando Percassi, Eleonora Iannello, Giulia Cuore, Maioso Dis78, Giorgia Tortoioli, Graziana Montalto, Zazza Aftai, Arianna, ciao a tutti benvenuti, come via, non ce la faremo mai, sto registrando, non vi dico da quanti minuti sto registrando, Mai Feiri, 1967, Chiara, Andrea Sciacatano, Upside Down, Zeruno, Francesco Barone, Rocco Paudano, Ligia S, Jessica Dermani, ciao Jessica, Mattias, La Torre, Chiara, Quattroocchi, Mary Grace, Stefania, Cabua, Anna, Trevisano, Vittorio Reale, Alberto M, Matilde, Chloe, Igor, Pagani, Gaetano Castro, Desiree Arianti, Raffaella Modeo, Claudio Dallemura, Paolo M, Fabrizio Garraffo, Martina Melluzza, Valentina Lofaro, Semetrax, Adum, Gipi, Elisa Latanzi, cioè Elisa, sto morendo, Maury Trees, che ha commentato forse due secondi fa, vabbè, Erika Tanda, Ada De Santis, Mattia Bernardotto, Ely3608, Dilson Nigro, Rau19800, Morena Faramondi, Tiziano Franzacchini, lo spegniamo raga, è indecente questa cosa, meglio, Cristina Spadari, Predamro, Claudia02, Sharklover, Hotbaby666, Sabri70, ciao tesoro, lei c'è proprio dalla pre-storia, Mariana, Claudia, Di Lollo, amica, e vabbè, 123456789, Zaro, stupenda, amica, Veronica Garzon, Alessandra Bianchi, Giulio, guarda, ciao Giulio, probabilmente non sta guardando questo video, però, è un mio ex collega di lavoro, Enrico Teve, Chiara Fotticchia, ok, mamma mia, che onore, veramente, voi non sapete quanto sono onorata, ciao a tutti, comunque, benvenuti, Giulia, Insalaco, Steffi, Smeraldo, Melissa, Iervolino, Cristina Bissimi, Riana, Severino, Ronaldo, Mendieta, Luca Alani, Luca Persico, Anna Ferrari, Carla, Bertolini, Leonardo Schiapparelli, Ralf Muster, Mauro Romano, Neurogenina, ciao tesoro, Gaetana, Pao, Lillo, Lara, Galletta, ciao tesoro, Elisa, Anzichi, Andrea Cano, abbiamo finito? Mi sa che, o sono stata veloce, o l'ho detto di tutti, o non lo so, Vabbè, proviamo a vedere se mi dà qualcosa di diverso, così, no, perché li abbiamo salutati anche questi, così, aspettate, adesso ci faccio una figura terribile, no, vi ho salutato, qual'italiano? Alessandra, Iadi, Luca, Serena Mondorsi, Nicola Sabonara, sì, ok, Claudia, 02, ciao Claudia, Veronica Garzon, sì, penso di avervi salutati tutti, ok, ora voglio fare una cosa, e poi vi saluto, voglio andare a vedere il paese, cioè, i paesi del mio canale, se sono ancora gli stessi, oppure se, se c'è stato, non lo so, un cambiamento, tipo, sapete che avevo fatto un video, dove vi dicevo da quali paesi mi guardavate, ecco, voglio vedere se, se è cambiato qualcosa, se siete sempre, dallo stesso punto, oppure è cambiato qualcosina, allora, mi raccomando, attivate la campanella, che è super importante, ragazzi, eccole qui, regione, mostra altro, acqua, ok, ora, ve lo dovrebbe far vedere, vediamo, sì, ah, vedi, qualcosina è cambiato, beh, se per caso vi ritrovate, vattene a sapere, allora, abbiamo, vabbè, io vi dico, la top, i principali, poi andiamo sotto, primo Milano, secondo posto, posto, anzi, se per caso, appartenete, a uno di questi paesi, che vi leggo, scrivete, e commentate sotto, tipo, se siete di Napoli, scrivete, forza Napoli, siete di Roma, scrivete, forza Roma, così, io so, che siete arrivati fino a questo punto del video, e che anche, avete, cioè, di dove siete, tipo, è molto carina come cosa, secondo me, allora, primo posto, Milano, secondo, Roma, che sono due città, favolose, terzo, Napoli, quarto, Torino, quinto, Palermo, poi abbiamo, Venezia, quindi la mia città, è sesta, complimenti ragazzi, queste sono tutte città, da cui voi venite, io, cioè, guardate, qui c'è, canale Annina, e qui ci sono, non so se si vede, Palermo, Venezia, le città, non sto, eh, barando, diciamo, cose simili, Bologna, ciao Michele, se stai curando questo video, eh, un ragazzo che mi segue su Instagram, ciao, eh, Genova, poi, Bari, Firenze, Pazzola, raga, Pazzola, eh, Reggio, Calabria, Monteroni, di Lecce, mai sentito, vita mia, Catania, Padova, e Gesena, Padovani, fatevi sentire, io, eh, vi ripeto, di seguirmi su Instagram, e di partecipare, sul nostro gruppo Telegram, che, è bellissimo, venite, ci sono tutti lì, giù in descrizione, vi ricordo, che se siete, se siete stati salutati, scrivetelo nei commenti, se invece, non siete stati salutati, però, per qualsiasi motivo X, volete essere salutati, scrivete sotto, Annina, mi saluti nel prossimo video, e vi lasciate il vostro nome, io, nei prossimi video, vado a riprendere, i vostri commenti, dove mi chiedete, di essere salutati, e molto semplicemente, vi vengo a salutare, grazie davvero, per tutti questi iscritti, spero che ne ce ne saranno altri, grazie davvero, di cuore, per il vostro supporto, mi rende, super felice, spero sì, che arrivi, molto, Pum, Pum, spero che arrivi molto, questa cosa, perché, mi dà la carica, di fare i video, fino alle 2 di notte, perché sono le 2 di notte, e poi, come andavo a svegliare, alle 7, e, niente, vi voglio un sacco di bene, e, grazie, grazie a tutti, anche quelli che non ho salutato, ogni cosa che fate, un commento, che venite a seguirmi su Instagram, un'iscrizione, anche solo guardare i miei video, senza fare nient'altro, grazie, perché, mi riempi di gioia, perché è quello che io amo fare, e se a voi piace, è fatta, cioè, proprio che il mio cuore è il pieno di gioia, e voglio un sacco di bene, vi aspetto domani, alle 2, 2, 2, 2, con un nuovo video YouTube, love you, ciao, buonanotte, 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 buonanotte,